Signor Sindaco, questa mattina è comparso nelle buche delle lettere sui deflettori delle auto un volantino sulla vicenda dell'omertosità che lei naturalmente ha vissuto in occasione dell'arrivo della Commissione Antimafia in provincia di Impera. Vuole dire qualcosa in merito? Le cose che dico sono relative al bollettino, cioè al deppian che è stato messo nelle buche da lettere, un deppian che è privo del comitente e quindi io al momento mi sono sentito oltreggiato da una parte che non conosco, che non erano i miei oppositori politici dai quali io mi aspetto di tutto ma non dal punto di vista. In questo caso quindi ho sporto denuncia dalla pubblica sicurezza dei carabinieri di Ventimiglia contro ignoti perché ignoto per me era fino ad oggi, fino a questa sera, il fatto che fosse il gruppo di minoranza che avesse commissionato questo deppian. Invece questa sera è emerso che è stato il gruppo di minoranza, cosa risponde in merito? Diciamo che io il concetto di omertosità non fa alla mia persona, chi mi conosce lo vede lontano dalla mia formazione sia morale che culturale. Omertoso non lo sono affatto, rispigo totalmente l'accusa, è un'accusa che è stata riportata da un solo organo di stampa, penso non condivisa dai miei cittadini che peraltro mi conoscono. Non ho mai avuto il mio difetto di non conoscere nessuno che abbia questa appartenenza in questo settore e quindi non ho potuto portare nulla di nuovo alla commissione che si sarebbe aspettata, chissà quali, quanti nominativi, di persone contro cui io ho a che fare. Io ho da fare sostanzialmente con persone nel mio operato quotidiano di amministratore pubblico perfettamente oneste. Grazie.